Salve a tutti, benvenuti al corso d'italiano B1. Ciao, benvenuti al corso d'italiano B1. Io sono Susi. Lezione 8 Il sistema scolastico italiano di Backe, Italia Giao yu Tixi. Salve a tutti, come state? Avete imparato come si utilizzano i adjectivi interrogativi, i pronomi interrogativi, e i verbi interrogativi? 大家都掌握一文形容词,一文代词,和一文副词的用法了吗? 这里,我来问大家几个小问题. Uno Quando siete andati alla scuola dell'infanzia? Due Quando siete entrati alla scuola elementare? Tre Quanto tempo dura la scuola elementare? Quattro Quando siete andati alla scuola media? Quanti anni avevate? Cinque Quale scuola superiore avete frequentato? Sei Reguardo l'università Ti piace? E perché? 以上的问题大家都回答了吗? 这里呢,出现了一些表示不同学校的词汇 我们来看一下 scuola dell'infanzia 幼儿园 Scuola elementare 小学 Scuola media 初级中学 Scuola superiore 高级中学 Università 大学 对了 今天呢,我们就来了解一下意大利的教育体系 看看他们的教育制度和我们国内的有什么区别 首先,我们来看一张tabella 图表 这里大家都读到了哪些信息? OK,表格最上方呢,有用黑色和红色两种颜色显示的ETA 年龄 接下去呢,有不同的色块代表的各教育级别 在意大利,教育呢,是由教育、高校和研究部 Ministero dell'instruzione, dell'università e della ricerca来负责管理的 我们可以简单的把它称为教育部 根据forma giuridica,司法体制 scuole pubblica 公立学校 scuole paritarie 和scuole private 私立学校 会有不同的管理形式 具体的制度呢,也会因学校所在的大区的不同而不一样 图中,年龄段用红色表示的部分呢,为义务教育 obrigo scolastico 那也就是从6岁到16岁为止 共10年制的义务教育 比我们国内的9年制义务教育呢,多出了一年 这边,我们先来区分一下 scuola pubblica scuola paritaria 和scuola privata scuola publica 相信大家对此应该没有任何疑问了 公立学校,国立学校 需要解释的是scuola paritaria 和scuola privata 两者呢,都是私立学校 都需要自己寻找教材和聘用老师 但前者scuola paritaria尽管是私立的 但他所遵循的教育制度和所颁发的证书呢 与公立学校是一致的 并被教育部认可 而后者的scuola privata 一段的前两年为止 共10年 图中黄色部分 初级教育 instruzione primaria 包含五年制的小学 la scuola primaria di durata quinquennale quinquennale 形容词五年的 图中绿色的部分 中等教育 instruzione secundaria 包含三年制的中学第一阶段 scuola secundaria di primo grado di durata triennale 过去叫scuola media inferiore 相当于我们国内的初中 也包含五年制的中学第二阶段 scuola secundaria di secondo grado di durata quinquennale 过去呢 叫scuola media superiore 相当于我们国内的 高级中学教育 triennale 形容词三年的 图中 灰色的部分 高等教育 instruzione superiore 包含 大学 università 高等 艺术 音乐 舞蹈学校 alta formazione artistica musicale e coreutica 和专业培训 la formazione professionale 接下去 我们具体来看 各阶段的教育 i genitori italiani 只要儿童慢两岁半 则可送入幼儿园 distruzione cioè la scuola primaria la durata media e di tre anni 幼儿园呢 是学龄前教育 并不是必须的 其教育特点呢 为细细玩耍 学会和其他同伴 一起相处 并为第一个教学阶段 也就是小学 做准备 幼儿园的学龄前教育呢 为三年 幼儿园呢 是学龄前教育 并不是必须的 其教育特点呢 为细细玩耍 学会和其他同伴 一起相处 并为第一个教学阶段 也就是小学 做准备 幼儿园的学龄前教育呢 为三年 La scuola dell'obbligo comincia a sei anni con la scuola elementare che dura cinque anni I bambini imparano a leggere e a scrivere apprendono nozioni di cultura generale e cominciano a studiare una lingua straniera inglese o francese Gli esami per il completamento della scuola primaria la cesso alla scuola secundaria sono stati abolici e'u教育, e'就是从 6 岁开始上的 5 年制小学起 孩子们开始学习阅读和写字 了解基本文化概况 并开始学习一门外语,英语或法语 和国内不一样,意大利的小学毕业考试已经被取消了 scuola dell'obligo, e'u学校 obligo,名词, e'u,职责 nozioni,为阴性名词 nozione的复苏形式 解释为基本知识,基本概念 修个例子 nozioni di geografia, diri基本概念 abolito,为动词 abolire,废除,取消的过去分词 estato abolito,为被动语态 这个语法点,我们将在第九单元进行学习 I guai cominciano con la scuola media ormai non ci sono più maestri, ma un insegnante per ogni materia Alla fine del terzo anno, dopo un esame, gli alunni ottengono la licenza media 烦恼呢,始于中学 再也没有小学老师 而是一门课程一位老师 最后到第三年 通过考试后呢 学生们呢,可以拿到中学毕业文凭 guai 阳性名词guayo的复述形式 表示为烦恼,麻烦 比如说 combinare guai,惹事 这里呢,一定会有同学表示好奇 maestro, maestra,和insegnante 两者呢,都解释为教师,老师 他们的区别在哪里呢? 文中的maestro, maestra 专指幼儿园或小学老师 在前任教育部长Germini的改革之后呢 小学老师体制又回到了1990年前 也就是一位小学教师 一个人带一个班学生多门课程 而在中学 不同课程呢 会有不同的老师 insegnante负责教授 我们再举几个例子 maestro, di scuola elementare 小学男老师 maestra, di scuola elementare 小学女老师 当然, maestro, maestra 也可以用来指代 persona che insegna qualcosa di particolare 也就是教授特长的老师 比如 maestro, di ricamo maestra, di ricamo maestra, di ricamo 刺繡老师 maestro, di pianoforte maestra, di pianoforte 钢琴老师 maestro, di sci maestra, di sci 滑雪老师 maestro, di balo maestra, di balo 同样,不管男性还是女性 我们可以用阳性名词 maestro 我们可以用阳性名词 maestro mr 接下来我们来看一下中学第一阶段的教育时间安排 及其学习科目 学习科目 教育典 二次 学习Well 学习 科目 学习 图 里面 医療 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 o attività alternativa, un'ora. Scuè sito comuno, io. Italiano, Italiu, mezzo uca小时. Storia e Geografia, con cittadinanza e Costituzione. Lì shi, ho di li, pohan guozi, ho sien fa. Mezzo, si che小时. Approfondimento in disciplina letteraria. Wen shue shen ru, i小时. Matemática,数学, 4小时. Scienze,科学, 2小时. Tecnologia, 技术工艺, mezzo 2小时. Lingua inglese,英语, mezzo 3小时. Seconda lingua comunitaria, 第二交流语言, 2小时. Arte e imagine, e su tu sian, 2小时. Musica,音乐, mezzo 2小时. Scienze, motorie esportive, 体育, mezzo 2小时. Religione cattolica, o actività alternativa, ten主宗教, mezzo 1小时. 这边的形容语, motorie, 原型为 motorio, 结束为运动的. 比如说,运动神经, nervo motorio. 这下期呢,我们来看中学的第二节奏. Chi chiede di continuare i studi sulle materie dell'ultimo anno, chi le supera la quasi totalità dei studenti, o tiene il diploma di maturità. 初中毕业后, 谁想自己学习呢, 可以选择不同的学校. Liceo clássico,文科高中, Liceo científico,理科高中, Liceo linguistico,语言高中, Liceo musicale e coreutico, 艺术高中, Instituti tecnici, 技术学校, Scuole professionali, 专业学校. 学习周期呢,一般为4到5年, 最后呢,有高中毕业考试, Exame di maturita, 包含涉及到最后一年所学科目的比试和口试. 通过考试后呢, 可以拿到高中毕业文凭, Diploma di maturita, 也可以称之为呢, Diploma di scuola superiore, 差不多所有的学生都可以通过. L'esame di maturita, 也 diviso in 4 giornate. Nella prima giornata, 这一天, 跟随着 comuni a tutte le scuole, dando la possibilità al candidato 选择 tra un tema di carattere storico, 专业文凭, 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 高中毕业考试呢, 一般分为四天, 第一天有针对所有学校共同考纲的科目, 给予考生在历史、现实、文学、新闻评论中, 选择一个题材的可能性。 tema, 阳性名词, 题材, 主题, 副书呢, 为的咖啥, 我们要说, 比如说文章的主题, 例如说文章的主题, 例如说文章的主题, 阳性名词, 这里有随笔, 短评, 评论的意思, 例如说文章的主题, 评论文评论, 例如说文章的主题, 历史评论, 例如说文章的主题, 文学评论, 评论文章的主题, 接下来我们再来看, 高中毕业考试第二天, 第二天, 第二天, 让每一种类型的学校, 计分类材, 但同一类型的学校, 題材一致, 语论文章的主题, 有区别, 有分别. 这些品牙评论, 区论文章的主题, Nel terzo giorno, invece, si affronta il test scritto a risposta multipla, che è preparato dalla comissione di esame di ogni singola scuola. 第三天,考生則要面对每个学校考试委員会自己准备的多元回答的比试. Comissione, in si mince,委員会. Comissione d'esame,考试委員会. Comissione d'inchiesta,调查委員会. Finiti i test scritti, è il turno della prova orale, dove lo studente generalmente porta una tesina preparata da lui o una scaletta di argomenti. Entrambe le due tipologie di esposizioni orali preparate dallo studente non escludono domande generiche sulle diverse materie da parte della comissione di esame. Un般学生要带自己准备好的小論文或观点提纲. 这两种由学生准备的口头陈述呢,并不排除考试委員会对不同科目的范文. Tutti gli studenti in possesso di diploma di scuola superiore possono iscriversi a una facoltà di loro scelta, senza esami di ammissione. Per le facoltà a numero che uso, invece, come ad esempio, odontoiatria e medicina, è obbligatorio il superamento di una prova scritta. Italii的高中毕业考试重要程度呢,相当于国内的高考,只是呢,在国内,高考成绩决定了可以去哪所大学继续深造, 而 italii的大学则对所有持有高中毕业文凭的学生开放,并可以选择一个自己喜欢的院系. 无入学考试,但对于有名额限制的院系呢,比如亚医学, odontoiatria,和医学专业medicina, 则需要通过比试才可注册. 这边我们来看一下, in possesso di,持有,拥有. Tutti i candidati che non sono in possesso di una laurea triennale, avranno una prova scritta. 所有没有本科毕业文凭的应聘者呢,都需要参加一门比试. Esame di ammissione,入学考试. A numero chiuso,限额. Per esempio, Il libero accesso ai studenti universitari, comunque crea anche dei problemi. Università spesso sovrafolate, e bassa percentuale di laureati, circa 30%. Ciò significa che molti sono gli studenti iscritti che non riescono a laurearsi e molti sono i cosiddetti fuori corso. I studenti, cioè, che presentano con ritardo la loro tesi di laurea. D'altra parte, l'università italiana, nonostante l'atto livello di preparazione che offre, è un po' staccato dal mondo del lavoro. Così anche con una laurea in mano, non è facile trovare un'occupazione. E' un po' staccato dal mondo. Abbiamo creato un nuovo sistema ABS per le automobili. Ommon wecichono, tranzalo e che sinta, ABS sitom. Insieme ai francesi hanno creato una società. Tammè ho fatto guaranìcì, tranzi le izia gongsi. Al ventuncie suoi in fa, zau chen. A causa del tuo heredato nella consegna del lavoro, mi hai creato dei problemi. Fuori corso. Ci sono in ritardo. D'altra parte Nonostante Cienzi z 不管 儘管 E uscito Nonostante il divieto dei genitori Ese restacato da Il quadro estaccato dalla pared Il botone estaccato dalla camicia Nioco La politica estaccata dalla realtà Cienzi no tori cienzi Occupazione In xin minzi Cie shui zi yie Gong zu Zian linea Oum zan lai kata shue La durata di un corso di laurea Varia dai tre Ai sei anni A seconda della facoltà Nei ultimi anni Tuttavia Esiste anche la cosiddetta Laurea breve Un diploma universitario Che si può ottenere in tre anni Ed è richiesto in specifiche Aria professionale Dopo la laurea Existono corsi di specializzazione Ed dottorati di ricerca Di alto livello Da Sì Ehi c'è di un corso di Ehi c'è di un corso di Pagiamoli a seconda del merito Laurea breve Laurea triennale 相当于我们国内的本科 但意大利的本科 只需要念三年 自1999-2000 学年起 意大利的大学 被分为三个阶段 获取本科学位后 可以继续升造两年制的 获取本科学位后 可以继续升造 两年制的硕士 Laurea magistrale 过去也被称为 Laurea specialistica 当然也有本硕连读的课程 比如说 Laurea magistrale Specialistica Archiclo Unico 当然也存在某些专业 必须念满四到六年 比如说 Medicina e chirurgia 医科外学 学年满六年 Odontoiatria e protesi dentaria 牙科和牙齿修复术 学年满五年 Medicina veterinaria 受医学 学年满五年 Farmacia e farmacia industriale 藥剂和工业藥剂学 五年 Architectura 建筑学五年 Ingegneria edile 建设工程五年 Jurisprudenza Fa学 五年 Sense della formazione primaria Chuji教育学 四年 La maggior parte delle università italiane sono statali I studenti devono comunque Pagare le tasse di iscrizione all'inizio di ogni anno Accademico Che variano a seconda dell'università e della facoltà Esistono inoltre poche università private Politecnici I studenti universitari E le università per stranieri di Perugia De Siena E di Reggio Calabria 大多数的 I大利大学 都是国立的 根據不同的大学 和院系 學生每年 都要支付一些注册費用 除少數 大多数的 意大利大学 都是国立的 根據不同的大学 和院系 学生每年 都要支付一些 注册費用 除少数 私立学校外 在意大利 有 Politecnici 理工学校 Istituti universitari 大学学院 和Perugia Siena Reggio Calabria 的外国人大学 意大利大学 是不需要交学费的 只需缴纳注册费 而注册费 也只不过 和国内大学的 学费相当 并不是很贵 这也是 意大利留学的 优势之一 此外 意大利人 也非常注重 历史遗址 文物保护 很多意大利的大学 都坐落于 几百年前的楼宇中 别被楼房的 年龄所吓到 其外表 可是古色古香的 室内 既保持了其原有的特色 又配有先进的设备 比如说 公认的西方 最古老的大学 Università di Bologna 成立于1088年的 波罗尼亚大学 其主校区呢 坐落于 波罗尼亚的 Via Zamboni 33号的 拥有500多年历史的 Palazzo Porgine 楼内 不仅保留了 Niccolo dell'Abatte 和Pellegrino Tibaldi 在地之一 1803年呢 波罗尼亚大学 从Palazzo dell'Archiginazio 正式搬迁至 这栋古老的楼宇内 怎么样 听了意大利学校的介绍后 大家是否都想去意大利留学呢 不管怎样 留学的前提 还是需要把语言学好 OK 今天的课程呢 就到这里 下一讲呢 我们将对整个第一单元 进行一个复习 并开始介绍 意大利人手势的运用 Ala prossima puntata Ciao ciao Ala